ci siamo ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale del babbo con nome sky ci siamo in cosa allora prima di tutto ho risolto il problema delle foto su steam quindi sono contentissimo di poter fare finalmente tornare a fare finalmente le foto e quindi di riampliare il mio catalogo di nome sky le missioni nate a polo mi hanno dato altra tecnologia che devo mettere nel mio nuovo multi tool che ho trovato in giro naturalmente comprato un milione qualcosa devo installare delle tecnologie che ho trovato quindi la granata ricerca che non avevo mai avuto l'occasione di prendere e queste altre cose laser minerario avanzato impatto sigma il fuoco rapido queste le devo mettere assolutamente tanto l'isolotte ce l'abbiamo ce n'abbiamo 23 quindi hai voglia mamma mia quanto bello sto mercantile lo voglio ecco io lo sapevo che c'è stata la guerra eh non attaccare il mercantile stronzi che cosa c'è un attivo che cosa c'è un attivo che cosa c'è un attivo ma mi sei rotto porca puttana un'altra volta mi sei rotto raggio mannaggia vabbè poi vediamo se funziona per capire tutti i componenti sono durata sta è qua io qua ciccio mercantile li lascia perdere però è bella stai strano io quasi quasi una una ore fa ma perchè mi sta a sparare a me mercantile nooo forza bubantino non è mercantile mi sta a sparare a me no non è un mercantile è mercantile quanti c'è in campo? ma anche il pannato me ha persociato si mi landa me ha persociato Sì, la città è andata a perdere Vediamo quanto ci chiede questo Questa è la sparmolotta, questa costa al minimo 400 milioni Minimo Facciamo un offerto, vediamo quanto vuoi 286 milioni, questa è bella Questa è veramente Bella 286 milioni, la voglio, se la voglio è falla Secondo voi VeloGames avrà il coraggio di proporre un nome Sky 2? Secondo me no, continueranno a fare DLC su questo Come dicevo anche a pagamento probabilmente Ma continueranno con questo La cosa non è che mi dispiaccia Perché io magari farlo dire, ci continuo anche a pagamento Li comprerei subito a occhi chiusi proprio Ci prendiamo un'altra estensione del carico extra 600 mila Ok Poi ne cerchiamo un altro Fai 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 Allora Extra Vai Qua Ok Questa è bastardo forte Stai, mi sorprendiamo perché è sempre comunque utile A sto punto La tecnologia Quanti ce ne sblocca ancora? Altri due, mentre il carico Altri quattro Carico extra Per forza Poi Mettiamo un altro Qui direi tecnologia per forza Ok Dove cazzo lo parcheggio? Qua 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 Questa è stata Il trandolo in mia mente Come un ricordo a lungo rimosso Nessuno in traccia la via verso Driadarg Come le sentinelle Devono essere distrutte Il loro tempo avrà fine Così è come è scritto E così sarà Questo è il giuramento dei viking La lingua La lingua Cassetta Questo cazzo Mi ha fatto cambiare Pianeta Per niente E io Porca miseria Sono da cercare un altro Pianeta Perchè questo Già che sono stato Allora Qui ci siamo Quindi abbiamo fatto Altri sette E Medici venti Se Riusciamo a farne 9 I 100 milioni Li raggiungevamo Io vi saluto Vi saluto E intanto continuerò A farmare E ci vediamo Magari forse domani Per una live Forse In settimana sicuramente Per comprare il mercantile Sicuro Quindi un salutone Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video di Nome Sky